ciao a tutti sono el e benvenuti al mio canale oggi sono qui con voi per una serata di chiacchiere sapete che non ho fatto il mio solito controllo audio e quindi chiedo a voi se si sente bene mi sembra di guardare da dall'indicatore del volume che è così scusate se sto con gli occhiali ma vorrei sapere così per iniziare se qualcun altro di voi soffre del mio stesso problema cioè io provo a portare il trucco per troppo tempo e mi viene la congiuntivite o l'inizio di congiuntivite è sicuramente dovuto anche il fatto che porto le lenti a contatto e questo sarà non aiuta però insomma per questo nonostante alcuni di voi mi dicano stai molto bene col trucco e tutto sì non può essere una cosa per sempre per me non riesco oggi ho messo questo lip ball balma o tra l'altro l'ho comprato perché ne ho sentito parlare sui vari video tiktok di makeup artist lip stain e se qualcuno l'ha mai usato anche qui sono completamente ignorante da quello che ho capito questo macchia le labbra infatti oggi l'ho usato ma non lo so forse non l'ho tenuto su abbastanza a lungo adesso l'ho messo su poi bisognerebbe pulirlo e poi rimane un'ombra giusto ciao maria luisa che mi saluta e mi conferma che l'audio si sente bene benissimo ne sono contenta ieri dopo la mia diretta bridgerton nella parte finale ho finito col fare un po di chiacchiere oggi parlo anche d'altro ho introdotto quando presentato questo questa diretta sia nella bacheca che sulle storie di sulle stories di instagram un argomento che vorrei trattare con voi perché è mi preme un attimo anche se poi parleremo di tante altre cose ditemi mi raccomando se volete sapere qualcosa di particolare una mia opinione su qualcosa la serata chiacchiere a tema libero e qui per questo mi sono messa a queste rossette c'ho ancora il mio piccolo tè caffeinico io voglio berlo ma macchio no la la tazza comunque inizio dicendo prima di buttarmi su quell'argomento lì aspetto che arrivate un po sono andata oggi a milano non ci andavo da un po di giorni perché ero tutti i giorni a guidare e ho fatto un pochettino di compere non so se anche voi magari avete la fissa di questa cancelleria di legami ho comprato questo quaderno qui ecco lo sto macchiando con rossetto un quaderno a righe mi piace make every day magical arrendi ogni giorno magico ho comprato anche le pennine tipo questa non la so sto scrivendo i miei appunti per i miei video con queste pennine qui e oggi ho visto che c'erano quei quelle lampade che ho visto nel sottofondo di tanti youtuber avete presente una col fulminino un'altra con l'arcobaleno io pensavo le voglio ma al momento dove sto qui esattamente dove metterei queste lampade da nessuna parte quindi non è il momento giusto lady eileen si fa una domanda dice non capisco perché youtube non mi segnali più le live di el non lo so non so come funziona youtube nelle notifiche intendevo lo so mi spiace io da qualche giorno avevo provato a fare queste live programmate ma è un dramma poi quando vado online nel senso che non mi sembrava di aver risolto ogni volta io devo schiacciare quando faccio una live così a caso semplicemente un bottone e va mentre invece quando c'era live programmata noi gli piace nel senso devo cliccare un bottone poi mi dice attenzione devi cliccare su un altro bottone per farlo partire e altre volte forse avrete notato che faccio un attimo di silenzio perché non avevo capito quando partiva poi quando l'altro giorno finalmente avevo capito quando iniziare a parlare il mio microfono non collabora l'avevo tolto madonna mia ansi dice che è fissata di cartoleria mia nipote mi ha detto l'altro giorno che anche lei voleva una pennina come questa gliel'ho comprata e mi dice sì la voglio perché a scuola le mie amiche ce l'hanno io delle bambine di dieci anni questa pennina bene effetti si può cancellare dicono mai usato questa funzione e mia nipote diceva sì poi l'altro giorno chiesto alle mie amiche mi hanno detto che mi hanno esclusa perché io non avevo la penna di legami e allora adesso invece entrò nel loro circolo virgola dice che le notifiche appaiono solo con le live programmate per me allora sarà quello vedete devo imparare a usare queste live programmate anche se per me è un dramma fare la copertina prima avrete notato che sono la regina del fare le cose all'ultimo minuto oggi sono andata a milano anche per ritirare dei libri che avevo preso in biblioteca ho preso me l'avevate consigliato cortigiane di valentine e lo il potere segreto dentro la corona inglese andiamo a leggere esattamente a questa gente che che lavora per la corona quelli che vi dico che secondo me sono incompetenti come viene scelta qual è il loro il loro la loro esperienza la loro formazione ma sento ho un pregiudizio su di loro al momento anche perché avevo letto un vago riassunto di questo libro secondo me lo vedrò confermato qui però vedremo poi ho ripreso questo libro che avevo preso per mesi e poi avevo lasciato scadere la la il coso takashi mazouaka la profezia della dama shizuka vi ricordate che vi ho raccontato questo libro molto simile a shoguna della che stanno in onda su disney quindi mi raccomando date io un'occhiata l'ho raccontato questo sarebbe il secondo volume a una duologia il primo volume si chiama nube di passeri e parla sempre di quel periodo lì mille anzi 1800 in questo caso mentre shoguna disney ha mettato nel 1600 però è tutto molto simile e poi soprattutto ho preso vi ricordate l'altro giorno se mi avete ascoltato ho raccontato una un retelling di cenerentola in salsa sailor moon una fa una una storia fantasy science fiction fantasy e cinder si chiamava cinder il primo libro il secondo è questo scarlet cronache lunari e quindi in realtà c'è un mega volumone che raccoglie i primi tre libri della saga adesso leggerò questo secondo ciao susanna che mi saluta federico mi chiede se preferisce preferisco leggere in cartaceo io in realtà ho letto tantissimo in ebook ma mi sono resa conto che mi concentro di più in cartaceo sarà mi chiede oggi che rossetto è in me solo dicevo all'inizio non è un rossetto è un lip stain è pure costato parecchio fenty beauty cercavo una versione più economica in giro altre volte ma oggi mi sono detta io faccio sempre quei miei acquisti così cioè non lo troverò da nessun'altra parte se mi metto a cercarlo non lo comprerò mai compro le basta ecco sono entrata in un sephora a milano l'ho trovato ho guardato che c'era questo questo colore qui che dovrebbe calzare con la mio con la mia ermocromia con la mia stagione ermocromatica e quindi ho pensato questo è il no qui c'è solo fenty fenty beauty che colore è no non riesco a vederlo è troppo piccolo un colore adatto ciliegia credo non lo so e ecco era questo che volevo raccontarvi la signorina che mi ha assistito nell'acquisto mi le chiedo di prendermi il coso corretto poi me l'ero messo sul dito poi le chiedo un fazzolettino per pulirmi e mentre mi accompagna lì alla postazione trucco per aiutarmi mi guarda e mi dice ma tu hai un canale youtube e io sì sì ti ho ascoltato ti ho riconosciuto dalla voce perché mi ascoltava penso tempo fa per il racconto dei bridgerton non ho capito se mi ha guardato anche ieri poi in quel momento le ho detto che ieri avevo fatto la live su bridgerton e quindi è la prima volta che mi capita di incontrare qualcuno che mi conosce a casaccio intendo ho già incontrato persone dal sia in qualche incontro tipo quella fiera del fumetto in questionata l'altra volta che tra l'altro era dedicata più alla mio al mio alla mia attività di youtuber che parlava di sailor moon e ho incontrato qualche persona anche tra voi però era un incontro programmato cioè prima c'eravamo conosciuti su youtube poi di persona ma era programmato non che vado in giro così qualcuno mi riconosce missione sentita famosa la ragazza mi sta guardando e c'è ludo dice uscito nuovo volume di sailor moon no 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 è una sorta di fan fiction di sailor moon ma non è neanche vero semplice è una storia originale di una scrittrice marissa meyer che tantissimi anni fa scriveva fan fiction di sailor moon a vincenzo stava dicendo hai visto il nuovo volume di sailor moon è una specie di art book uscito oggi lo prenderai è uscito nuovo volume di sailor moon sono indietro ma se è un art book fatto dalla takeuchi no no nel senso non è il mio interesse la la takeuchi cos'è ne avevo sentito vagamente parlare uscito oggi dove tra l'altro immagino in in giappone non qui in italia anche perché non ho visto nessun annuncio da questo punto di vista no ma l'art book della takeuchi ma li ho venduti avevo delle versioni tarocche e mi sembra di averli venduti virgola dice oggi invece ho preso il secondo libro del problema dei tre corpi dopo la live vado a finirlo lo stai finendo ecco in questi giorni sta leggendo il problema dei tre corpi di scissi negli u il secondo la materia del cosmo sono a metà circa o mi sta intrigando un sacco però in effetti potrebbe non piacere ad alcune persone è tanto una riflessione su che cosa farebbe il mondo se sapesse che sta per essere sterminato non subito nel giro di 400 anni e quindi a quel punto lì entrano in corso varie logiche è più una riflessione sulla società umana volendo susana mi diceva ci sono quelli di astra intendi trucchi sono molto carini magari per provare nuovi prodotti il libro sugli incompetenti dice mai a cortigiani di valentine di valentine lo si si assolutamente devo leggerlo leggerlo anche a voi vi angel dice commessa se sei tra noi faccio dacci un segno claudia dice nuovo libro dell'edici su harry e megan che ne pensi grazie non non l'ho preso anche perché ho sentito che semplicemente un vecchio libro con alcuni aggiornamenti e l'edici per chi non lo sapesse l di colin campbell credo qualcosa di simile è una nobile o comunque pseudo aristocratica britannica che ce l'ha un sacco con harry e megan quindi non so quanto possa non essere parziale e soprattutto non credo che mi dia particolare nuove info altrimenti se in quel libro ci fossero nuove info sarebbero già uscita su tutti i giornali come sempre quando per esempio erano usciti vari libri di robert jobsson se c'era qualcosina di nuovo il daily mail o altri giornali pubblicavano qualche estratto non mi sembra sia successo col libro dell'edici virgola dice è il famosa quanti scritti richiede la sicurezza come megan un milione a vincenzo mi diceva che l'artbook è una raccolta di tutti i disegni dal 1991 al 2023 di sailor moon lo comprerai se ci fossero i disegni dell'anima storico non a me sono piaciuti i disegni della takeuchi anzi li copiavo persino quando ero ragazzina però non li amo particolarmente sofia dice è elda oggi assumi i guardi del corpo chiede harry megan per consigli emma mi chiede se leggerò il libro di james clavel shogun alla serie davvero ben fatta ho letto un riassunto di shogun finisce in un modo che spero non venga imitato dalla serie tv ma temo di sì e so che tra l'altro non finisce so che james clavel ha scritto altri libri in una saga sempre dedicata al giappone è solo che è un tom quasi di mille pagine da quello che ho sentito se lo inizio poi non leggo altro e devo leggere altro anche per voi comunque questo colore ti sta bene è ma lo so ma è normale che mi stia bene come dicevo armocromia ragazzi ragazze io sono l'inverno cool sono fredda di carnagione e quindi certi colori rosso ciliegia per esempio mi stanno bene da quando l'ho scoperto gli è anche lo scuro mi sta bene e invece il bianco grigio nel bianco dipende dalla tonalità cioè c'è un maione che stavo mettendo due secondi fa perché mi faceva sentire calda ma mi 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 wash come si dice è come se mi scoloris andrea dice ero a city life oggi a milano è come mezzo mondo nel senso che oggi milano piena con un sacco di gente per la bella giornata faceva un caldo infinito grazie a dio a un certo punto mi sono tolta la giacca non avevo neanche messo qualcosa sotto questa felpettina qui e sono stata mediamente bene andrea dice non ti sei abbronzata oggi no perché le persone coscienziose ho camminato è apparecchio non ho neanche preso la metropolitana ho camminato in giro le persone coscienziose usano queste cose ho preso crema solare 50 più a questo punto non si tratta neanche di bellezza cioè ho la mia age oramai bisogna proteggersi dalle rughe quindi no e sole vietato ma non l'ho mai amato particolarmente quindi appena ho visto che facevano un po un po troppo sole me lo sono spalmato a emma dice adoro i mici nel backstage si si stanno sistemando qui a vincenzo mi chiedeva novità sulla patente è infatti ne ho parlato ieri no ragazzi non sono passata però ne avevo tenuto conto nel senso che volevo fare una prima prova all'ultimo momento pensavo che l'avrei passata l'esaminatrice era particolarmente severa ecco una domanda che voglio fare a tutti voi perché voglio capire pare che vari tanto da esaminatore esaminatore a voi hanno fatto tante domande all'inizio prima della prova cioè esiste questa possibilità non ho sbagliato quelle domande anzi lì è la parte che è filata meglio me ne ha fatte parecchie tipo la revisione dove si trova la targa il libretto di circolazione apriamo il cofano segnalare varie robe che cosa fai una volta quello è più semplice cosa fai una volta seduto specchietti tutto quello lo sapevo però ho l'impressione che altri lo chiedono meno susanna dice brava preveniamo malattia della pelle con un piccolo gesto come la crema solare ecco anche di quelle ho paura perché si ho la carnagione abbastanza chiara e ho timore di chissà quale cancro della pelle virgola dice ma con l'aumentare degli iscritti aumentano i pretendenti nella live sì mi fa sorridere ok emma dice io sono stata a milano giusto mercoledì per uno spettacolo mi son presa tutta la pioggia è sì è vero che ha piovuto fino a pochi giorni fa emma dice che quando prese la patente a 19 anni durò 5 minuti e il tizio parla tutto il tempo con il mio istruttore di vini non vorrei ripetermi andate a guardare gli ultimi 20 minuti della live di ieri perché ho parlato di tutto quello che è accaduto non sono così stranita nel senso che le cose che ho imparato a fare per bene le ho fatte e quindi è giusto così letteralmente anche se sinceramente mi ha fatto ridere che quando poi sono uscita dall'esame mi hanno riportato alla scuola guida che sta nel paesino dove sto risiedendo al momento giuro che il tizio che guidava ha violato un sacco di regole e inoltre da giuro davanti a noi c'era una rotatoria molto stretta che ho imparato a fare ormai da una vita non quella quella rotatoria non specifico queste rotatore strette perché in queste cittadini ce ne sono un sacco davanti a noi vedo una macchina che invece di far così girare a vita a federico dice a me non hanno chiesto nulla mi hanno fatto guidare solo per cui per dieci minuti enrico dice dipende dalla voglia che ha l'esaminatore nel fare l'esame a seconda quanto dopo fai l'esame rispetto i precedenti in che senso i precedenti esami ma questo era il mio primo no a tutti faceva delle domande non solo a me a tutti quanti era aveva un aria un po da professoressa con la voglia di trovarti l'errore in realtà queste cose le avevo imparate grazie faccio una minima pubblicità perché davvero un buon canale grazie a questo canale youtube che si chiama guidare oggi con un tizio che spiega benissimo e quindi queste cose avevo sentite un pochettino memorizzate sapevo tutto tra l'altro servono non solo per l'esame della patente ma perché se per esempio vedi una spia di un certo colore devi sapere se fermare subito la macchina come controllare varie robe e interessante in venti minuti di video ho imparato tutto e infatti ero pronta in quel momento lì mai dice il mio esaminatore era stato carinissimo mi ha fatto almeno 15 minuti di raccomandazione assino questa carinissima no 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 era pensata per prima regola abbassare abbassare il freno a mano diceva andrea lo mettono sempre apposta per farti sbagliare non ho sbagliato quello anzi lo so lo so sempre ho guidato un sacco in questi giorni col mio foglio rosa insieme a mio padre accanto a me no 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 non era questo no mi ha lievemente sabotato l'ho fatto apposta perché di nuovo andate a guardare la live di ieri poi l'ho leggermente indispettita all'inizio non per mia colpa eccetera cioè è complesso da spiegare è davvero complesso ci hanno portato in un parcheggio in cui la segnaletica orizzontale si vedeva a stento ma tu la dovevi seguire e come fai? concentrata nel vederla mi dice gira a destra ma si era sbagliato dovevamo andare a destra prima e quindi io pensavo giro di qua seguendo la segnaletica orizzontale ma poi mi dice no puoi girare di qua e mi devi ascoltare e stavo cercando di fare le cose come si deve vabbè lasciamo stare e poi mi ha sabotato facendomi trovare una salita dopo una curva strettissima che non si vedeva una salita molto ripida e non ho perso la calma quando mi si è spento il motore ma letteralmente e sono in grado di far partire una macchina anche in salita così già sperimentato il problema è che quella era troppo ripida era a livello avanzato letteralmente e quindi era secondo lei l'ennesimo errore posto che un errore vero e proprio l'avevo fatto perché non mi sono esercitata abbastanza nel parcheggio per colpa di mio padre che ogni tanto mi sta ascoltando ma tanto glielo ho detto in faccia queste cose e lui la sua povera macchina non la posso usare per parcheggiare perché aveva terrore che andasse vicino ad altre macchine ma così non ho saputo parcheggiare lasciamo stare il parcheggio s ma adesso quindi perché peccato è beccato la tipa cattiva allora sì ma allo stesso tempo cioè io avrei imparato poi le cose e avrei anche se mi avessi dato la patente ieri poi sarei stata pienamente cosciente che alcune cose non le so fare sarei ancora andata in giro con mio padre per un po mi sarei esercitata prima di fare qualunque strada nuova molte volte altra gente invece sarebbe stato un pericolo pubblico così e infatti come vi dicevo poi io vedo in giro gente che ha un pericolo pubblico e forse a loro avrebbero dovuto tenerli un po di più nell'esame di guida allora non è così sbagliato ok alla fine andrea ti vedo molto insistente saremo brilli non bevo andrea ti ha bocciata sì non l'ho passato a virgola dice secondo me hai fatto un drift e lei fatto male ma che drift no no io con prudenza è proprio quello il problema la prudenza mi ha portato siccome la curva stretta e la yella anche è perché la curva stretta c'era ma c'era un semaforo prima e se fosse stato in rosso io mi sarei fermata l'avrei vista avrei messo in seconda invece l'ho presa in terza perché ero in terza ed ero più preoccupata di non far schiantare la macchina e per cui questo perché di nuovo mio padre non si è mai fidato a lasciarmi andare in città perché la sua macchina è più grossa e lui ha paura che la rovini e io quindi queste cose non avevo così tanto la sicurezza per girare in un questo vicolo stretto e al tempo stesso ricordarmi di cambiare in seconda quando hai il prossimo esame non lo so ecco e questo è quello che mi rode di più in assoluto questo sì questo mi rode tantissimo perché avrei voluto passare adesso per essere libera nel mese di maggio e invece non lo si sa quando è a maggio ma non so se all'inizio a metà suppongo a metà il mio problema è che io volevo viaggiare volevo prenotare adesso e come faccio prenotare se non so che giorno è l'esame e lo devo fare a maggio sì o sì federico dice ma tutti appena presa la patente mica sanno fare tutto anch'io imparato col tempo quell'esaminatrice era dell'idea che dovevi saper fare tutto quasi bluore mi chiede sua intenzione di prendermi subito la macchina sì infatti stavo già guardando assicurazioni eccetera la prenderò rapidamente sì sì perché mi serve in questa parte qua e per esempio io ho intenzione all'inizio di fare proprio due tre percorsi in croce che devo imparare a fare bene tipo io che vado da la casa dove sto risiedendo adesso poi da quella nuova che avrò fino alla stazione del treno e lascio la macchina lì quando devo andare a milano la lascio lì mica mi faccio l'autostrada fino a milano o neanche la provinciale fino a milano siamo pazzi no no quindi così fra mi dice forse coraggio grazie grazie virgola mi dice l'hai fatto da privatista o in scuola guida no no scuola guida infatti il mio istruttore era lievemente mortificato susanna dice ella anche a me bocciarono giuro che la seconda volta va meglio ormai hai capito come prepararti ma certo ma certo io volevo proprio mica in questa era una tragedia se non lo passavo alla fine ho scoperto di avere altri due mesi in realtà prima della fine del foglio rosa e c'è uno dei gatti della mia famiglia che sta piangendo fuori il micione noel che è in giro spero che i miei lo sentano aspettate gli scrivo federico dice io il cambio automatico così non si spegne ecco il cambio automatico sarebbe più più semplice ma no alla fine non dispiace il cambio ho imparato a usarle susanna mi diceva giuro che la seconda volta va meglio sì infatti questo era un esame di prova proviamolo vediamo come va che cos'è quindi la prossima volta so già cosa aspettarmi sono più calma nai cor dice quando facevamo la prova per strada avevo fatto l'unico errore di non aver dato la precedenza ad un ciclista per fortuna però continuato la prova e ci sia riuscito a superare l'esame prima di me l'istruttore mi disse attenzione che questa esaminatrice è molto attenta con precedenze e indicatori che ho fatto correttamente tranne una precedenza dentro il parcheggio ma non la so a me non sembrava una precedenza vera e propria si procedeva a passo di tartaruga perché dovevo aspettarlo quando mi stava chiaramente sentivo che dovevo muovermi e non c'è stato nessun pericolo ma lì già si era indispettita di nuovo se avrò di nuovo quella persona perché non si sa forse invece sarà in un secondo momento non si sa saprò come prenderla e saprò anche stare più attenta e saprò guidare meglio innanzitutto e invece se sarà qualcun altro magari sarà più facile o magari non ha importanza devo saper guidare come dicevo alla fine se fossero tutte come lei forse avremmo guidatori più tranquilli in giro invece che certi pazzi che vedo poi effettivamente le dielli dice un gatto sono uscito dalla porta sì quando ha sentito il micione Andrea dice se eri regina non dovevi fare la patente potevi guidare senza eh sì un attimo sto scrivendo a mia madre il gatto è fuori quindi vai a prenderlo io sto cambiando l'auto che ha 13 anni dice merisana in testa assicurazione auto a chi ha patente da tanto tempo paghi meno di assicurazione dice mavi sì ma bisogna convivere se non sbaglio mio padre si stava informando tanto anche perché avevo fatto una simulazione solo per me è tantissimo nonostante io non rientro in teoria nella cioè come ne ho patentata rientro una categoria di rischio ma allo stesso tempo non sono un maschio diciottenne che sono quelli che fanno più incidenti in assoluto quindi pensavo contasse qualcosa Sara dice quante volte si può rifare il foglio rosa penso all'infinito solo che ogni volta ti rifai l'esame teorico ma no non temo di doverlo rifare davvero non ho questa paura merisana dice che lei è stata bocciata la prima volta nonostante il parcheggio perfetto perché ero un pochino troppo in mezzo mentre aspettavo di svoltare poi mi ha promosso la seconda con un parcheggio fatto malino si dipende da tante cose se penso che la patente dal 95 mi pare strano pare ieri in teoria io avrei potuto prenderla nel 2002 in teoria però non a milano non ce n'era bisogno e hai ragione dice federico guidano tutti male senza seguire le regole a volte molto pericoloso a volte tanto mio padre mi ha portato nella provinciale l'altro giorno perché si fidava di me l'ho fatta bene la provinciale le emissioni che sono un po drabbati che nella corsia d'accelerazione che me l'aveva fatto fare anche l'istruttore di guida solo che con un'altra macchina e anche quello è un problema avere due macchine diverse però vabbè l'ho fatto bene ad una certa io stavo andando tranquilla tra la corsia destra eccetera arriva uno in corsia d'accelerazione vabbè io continuo ad andare questo si sta immettendo e io ho dovuto veloce ma o criminale per fortuna che accanto non avevo nessuno se no finiva male lui mi stava venendo addosso mi state chiedendo tante cose no non vi preoccupate poi mi informerò a dovere mio padre già si stava informando allegramente mi informerò anche io susanna dice non conta nulla purtroppo da neopatentato ti trovano il pelo nell'uovo nell'assicurazione beh le posso anche capire sicuramente e alla fine immagino che dopo il primo anno in cui non faccio incidenti perché quella è l'idea alla fine andrà tutto bene scenderà rapidamente merisana dice anche mia nipote più grande bocciata ed è prudentissimo questo può essere un problema perché per esempio la mia esaminatrice a un certo punto ha detto sì ma vada più veloce non intralci il traffico vogliono che tu sappia guidare praticamente già ancora oggi dice ma dopo 15 anni ogni tanto mi viene qualche brivido per come guida la gente alcuni si e magari è gente invece che ha avuto la patente regalata e forse non avrebbe dovuto farlo perché io mi rendo conto che io come vi dicevo anche se me l'avessero data sarei stata prudente sapendo di avere ancora da imparare e altri invece magari si credono già i nuovi schumacher così vabbè io pago 400 euro non so se poco tanto di assicurazione dice andrea è poco a me hanno chiesto la più bassa che ho visto in una simulazione 900 ma tanto la devo fare devo guidare cristina mi diceva tra quanto potrei riprovare tra un mese allora però abbiamo parlato della patente e non dell'altro argomento federico dice per l'assicurazione a me cointestata con mio fratello che decenni in più di me non viviamo insieme magari quindi è una cosa che potrei sfruttare ok l'altro argomento di quello parlare e che ci tengo perché l'altro giorno ero intervenuta in una discussione credo facebook su questa cosa non mi ricordo su tik tok e vorrei chiederlo a voi perché mi sembra in realtà di avere un pensiero abbastanza controcorrente però su questa cosa sono abbastanza rigida ovvero secondo voi è giusto pulire una stanza di hotel e lasciarla mediamente pulita oppure il vostro pensiero è più ho pagato che pulisca chi deve pagare cioè chi chi deve pulire allora messa così forse è un po sbagliato io quando vado in un airbnb eccetera io lascio come se non ci fossi stata mi ricordo che ero andata a new york avevo pulito persino un po e poi infatti mi avevano lasciato una recensione dicendo come se non ci fosse stata pulitissimo non me ne frega niente se ho pagato perché puliscano la stanza e perché ho questo pensiero forse perché io quando sono stata ragazzina io ho pulito in un ufficio mia madre mi mandava e mi dava una mancetta era lavoro suo ma mi svegliavo alle 7 di domenica mattina per andare a pulire questo ufficio in centro ho aiutato mia madre a pulire mia madre ha fatto la donna delle pulizie per un certo periodo e ho pulito bagni anche e soprattutto non sopporto chi lascia i bagni sporchi frega zero se non è il tuo lavoro è la roba tua prendi le tue manine sante e questo lo dico proprio con una convinzione prendi carta igienica pulisci se hai sporcato e non si tratta di non è il mio lavoro qualcuno è pagato per farlo nessuno nessuno ama fare questo lavoro qui nessuno e soprattutto c'è un intero paese tipo il giappone dove insegnano i bambini a pulire è infatti un paese di persone civilissime persone che a cui viene insegnato fin da quando sono ragazzine a rispettare il luogo che in cui si trovano la scuola ad esempio la devono pulire loro in questo modo rispettano e non sporcano o comunque hanno un senso del rispetto per chi sta lavorando in lavori più umili quando mi viene un cameriere e mi prende un piatto per esempio io glielo passo se glielo posso facilitare cosa mi costa esattamente niente non è che sta facendo quel lavoro per vocazione sta facendo perché non sta trovando altro al momento giuro che ho sentito gente che diceva vabbè è un problema suo se si trovi un lavoro migliore mi viene veramente voglia di Enrico dice corretto mettere in buone condizioni la stanza per rispetto degli operatori allora magari uno non c'ha tempo ho visto delle signore ecco con questa con una di queste ho litigato dicenda che diceva io pago per non pulire e provava a mettermi nella sua testa nel senso magari a casa pulisce tutto il tempo e quindi in quel momento non vuole pulire ci sta non pulire determinate cose ma un minimo di decenza almeno non lasciare troppo sporco non hai un minimo di orgoglio oppure non lo si equivale all'orgoglio non lo so Federico dice è completamente d'accordo con te ho fatto sia le pulizie che il cameriere Frascati dice magari non pulizia di fino ma lasciarla mediamente ordinata si ecco basta un mediamente ordinata lasciarla pulita penso sia la cosa più giusta e ovvia da fare dice Vincenzo c'è il personale ha detto sicuramente ma non significa nulla sarebbe molto civile lasciare tutto in ordine dice Francesca io ripulisco il bagno ecco anch'io il bagno sempre e tiro su le coperte come per rifare il letto mi dispiace lasciarlo sfatto sia anche a me virgola dice io non pulisco perché non sporco molto ci sta l'importante lasciarlo in maniera decente invece c'è gente che devasta oppure lascia il bagno in uno schifo e tanto c'è qualcuno che pulisce mi infastidire lasciare carte persino al cinema poveracci devono gestire tutto e pulire la sala costantemente io pulivo e rifacevo anche il letto dice l'idea lì state parlando di qualcuno ah c'è qualcuno lì che state dicendo che forse ha scritto un messaggio che ha cancellato non l'ho visto state nomi dannando una certa vecchi ah no lo leggo che interciter vecchi scrive ancora parlare di megan non te la vuoi tagliere dalla testa e la tua sessione un po ti capisca bellissima lei a differenza di chi si mette sempre in bocca il suo nome tu stai parlando di megan ma chi parla di me forse la tua ossessione lasciamo stare c'è un mio fake che ho cancellato i messaggi di prima penso dice veghi in che senso c'è un tuo fake ciao sono nuova di cosa parlate e veghi in che senso hai un fake non è che ci credo molto messa così lasciamo stare lasciamo stare io sono molto e rapida a risolvere queste situazioni ad un altro messaggio strano e non mi importa se hai cose così ciao e gli acconti non vengono rubati a casaccio megan lì nominata magari io do un'opportunità comunque a parte che mi ha fatto ridere il messaggio vabbè io cerco di tenere ordinato dopo il lavoro dice sarà si torniamo al nostro argomento oppure gente che e lo so perché mia madre appunto faceva la donna delle pulizie gente che fa venire una persona in casa a pulire e pretende che faccia cose che è impossibile fare in quel tot numero di ore e poi si lamentano che la persona delle pulizie insomma la donna delle pulizie non ha pulito bene devi farlo tu quel lavoro fallo tu una singola volta per vedere quante ore ci si mette e poi chiede agli altri di farlo per quello tutte le persone che si comportano così ho sempre provato un odio infinito per per chi si sente entitled appunto come se appunto solo perché paghi una persona ti senti in diritto di abusarla psicologicamente o comunque non rispettarla più di tanto o pretendere l'impossibile letteralmente solo perché hai soldi no non compra la classe nella dignità tutto questo e mi rendo conto però attenzione che io ho un problemino con questa cosa perché poi leggevo di gente che diceva io non assumo nessuno perché tanto pulirei prima che arrivi la persona e io farei lo stesso e allora tanto vale che faccia tutto da me mi darebbe fastidio far trovare sporco e altre persone dicevano infatti pulisco ma chiamo qualcuno per il lavoro di fino e questo lo capisco di più e infatti una mia amica per esempio faceva così e tra l'altro un bambino eccetera e lo capivo benissimo va bene sono io che non saprei programmarmi nel pulire prima tra l'altro per esempio se la facessi venire di mattina io mi sveglierei alle sette per pulire no 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 però ecco un'altra categoria di persone che non sopporto è quelle che pretendono che venga fatto chissà che cosa quando poi hanno il bracino corto e vogliono pagare sia poco che poche ore no non c'è i soldi pulisci tu con le tue manine sante virgola dice le persone a volte non si mettono nei panni degli altri poca empatia ho una casa al mare su airbnb dice blue orion la scorsa estate trovato uno schifo con tanto di vermi in frigo lo avevano staccato a recondizionata lasciata accesa noi si arrivava il giorno dopo mi sa smetto anch'io ho trovato gente così dei ospiti cinesi si venivano dalla cina che hanno messo l'area condizionata a 18 gradi 18 gradi ma sei impazzito 25 22 18 come si vede che non sai quanto costa l'elettricità cioè anche lì ho pagato ho pagato ma non abusare degli altri comunque se veramente maleducato il rispettoso a ok vecchi è tornata soffre di bipolarismo poverino allora adesso facciamo quello che dovevo fare fin dal principio un attimo ciao vecchi goodbye un istante vecchie vada a dormire dice un attimo un attimo devo scrivere una cosa un istante ok siamo tutti invidiosi dice elsi della regina megan vero anche io ho avuto un airbnb che era quello di mia madre l'abbiamo gestito per un periodo un lavoraccio tra l'altro un lavoraccio però con gente che non rispettava gli orari d'ingresso io lo posso anche capire scioperi eccetera poi gli americani che in milano c'erano un sacco i peggiori di tutti perché non per colpa loro esattamente ma loro sono convinti che arrivano e prendono un taxi come fanno dalle parti loro ed è più rapido così no a milano al col taxi fai una coda infinita e ci metti di più ti costa un sacco non loro non lo sanno quanto costa neanche perché non si informano e invece dovrebbero venire con i mezzi poi se ci sono scioperi eccetera è la fine il più bel bagno cosa andrea cosa è scritto andrea yeager dai no ma perché quelli che lasciano i bagni dei luoghi pubblici uno schifo dice emma ma santa pace non ti farebbe schifo andarci allora lascia che sia utilizzabile anche per chi viene dopo io ho sempre questa impressione che tra l'altro il bagno delle donne a volte così che proprio siano quelle che fuori sono più messe più be meglio insomma con più cura realtà eccetera che quelle che lasciano lo schifo perché non lo possono toccare loro una volta un locale in montagna ho visto dice merisana un uomo uscire dal bagno delle donne dove aveva sporcato tutto gli adatto del maiale ha ridacchiato ma quella è una persona malata che tristezza che tristezza scusate stavo cercando vediamo se c'è ancora il messaggio di quella persona lì no ok elisabetta ci saluta gloria diceva confermo soprattutto stanieri e stranieri tengono il condizionatore a palla e tanti non conoscono il boiler chiamano brontolando per l'occa calda che manca lo stabile storico sì sì è terribile bisogna lasciare delle istruzioni nessuno dice che non bisogna lasciarle però dai miei dice cristina avevano una signora che veniva una volta a settimana e le facevo trovare le cose che tenevo sotto il letto sopra per permetterle di arrivarci meglio poi levavo tutto l'ingombro ma infatti cristina dice non puliva bene a dir la verità ma ci dispiaceva mandarla via acquari d'oro siete poi però quando l'ho beccata tagliarsi le unghie nel bagno con il nostro taglia unghie soprattutto a se ne approfittava questo che è schifo meritava di essere licenziata qui state parlando dei bagni della rinascente di harrods dove ci sono i flaconcini di chanel numero 5 non scherzo davvero beh ma io in realtà trovo diversi bagni puliti io vado bagni del mcdonald's quando vado a milano eccetera sono puliti in generale alcune volte no se c'è passata altra gente e io mi confesso che prendo se è troppo sporco prendo la carta igienica la mia mano non entra in contatto pulisco un attimo e butto anche per lasciare per qualcun altro se posso e poi mi lavo le mani non succede niente non sono contaminata cristina dice che la persona di cui parlava ha persino stava persino rubacchiando a casa sua poveri mi spiace che roba terribile cambiamo un attimo argomento e mai diceva 18 gradi erano i pinguini vero ma infatti tra l'altro con fuori 34 gradi ho capito che faceva caldo ma quella poi nel periodo in cui l'elettricità stava schizzando una roba infine incredibile e un istante un istante ok è la tua esperienza più worst negli alberghi mi chiede andrea ma io vado poco in alberghi io in generale siccome non mangio fuori non mangio fuori sono spesso andata in casa con cucina sempre perché io ho il palato di una bambina di cinque anni io non provo cucina estrenire eccetera per chi non lo sapesse fosse nuovo nei miei lead in effetti non è un discorso che faccio spesso a me non piace troppo il piccante non piace troppo tante cose e quindi io ai ristoranti non ci vado non mi piace tra l'altro in quelli americani quella volta che sono andata in america il pagare il tip del 20 per cento non ci penso neanche tra l'altro per mangiare male no 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 io mi sono sempre portata qualcosa da cucinare di semplice in busta così una casa sempre con cucina e io cucino lì risparmio in cibo perché a me non piace io non provo cucina nuove perché non le provo perché non mi piacciono tante cose tanti sapori poi magari adesso quando ne provo uno una volta e poi mi piace sono contenta e ha aggiunto un nuovo cibo ma non c'è nessun modo peggiore di prendermi che quando ho fame mi si mette davanti qualcosa che non mi piace tra l'altro che per cui ho speso e mi dispettisco da morire diventa una iena nella mia testa magari mi dispettisco da morire quindi no io prendo si vado sempre sulla usato sicuro e quindi i ristoranti non ci vado non perdo neanche tempo a leggere menù eccetera non ci vado ai ristoranti un tempo il mcdonald's era il mio luogo preferito quando andavo in vacanza almeno sapevo esattamente che cosa stavo mangiando ma per esempio quando sono andata in inghilterra all'arrivo sono andata in un burger king poi ho fatto letteralmente la spesa un pochettino in un negozio lì vicino lati eccetera e c'era lì una cucina cucinata del risotto che mi ha nutrito tra l'altro meglio di altre robe e quindi così sono andata avanti io sempre prendo una cucina non alberghi no e tra l'altro quindi tutte le gli appartamenti in cui sono stata sempre pulitissimi anche io tendo a pulire dice bluorion prima che arrivi la signora a pulire ma ci mi ci sono appoggiata solo quando ero incinta ora quando quando troppa roba da stirare meno male sfrutto le tue dirette per farlo vabbè orion qui gusti personali anche ma perché stiri ancora do sprecare energia non stirare ormai non stira quasi più nessuno no qualcuno stira poi dipende ci sono certi tessuti che sono da stirare in genere beh ma ormai lo saprà il mondo intero un buon modo per non stirare vai la maggior parte della mio vestiario in cotone fai la lavatrice io faccio con 1200 giri la tiri fuori subito subito dopo che ha finito e la stendi subito non si spiega se il problema è lasciarlo dentro per tante ore lì si spiega se si poi ci sono certi tessuti che a prescindere sono da stirare se ne è bisogno ok un consiglio per liberarti da questo dramma a casa l'andolcio vuole un consiglio su un libro rom com che fa davvero di ridere ne ho un disperato bisogno in questo momento aiutami tu che fa davvero ridere soffì in sella i love shopping il primo anche se becky bloomwood si chiamava così credo potrebbe farti venire voglia di strozzarla no sto cercando di pensare magari però secondo me sono molto copie anche di commedie romantiche americane potreste provare con felicia kingsley lei ha un certo umorismo un po non volgarotto un po banale però mi ha strappato una risata genuina in uno dei suoi libri quindi potrebbe essere anche quello adatto a te virgola mi chiede se non mi piace il cibo del mio paese no in realtà adesso lo sto riscoprendo un po di più però non io non prego il piccante per esempio e per me piccante è già un pepe proprio pochissimo piccante non mi piace il cibo del mio paese per chi non lo sapesse il perù a me piace il sibiche ma io non mangio frutti di mare quindi prendo solo il pesce e il resto lo lascio infatti il tonno lo devo prendere sempre di una certa marca perché non mi piace che abbia troppo il sapore di pesce papala huancaina arroz con poio mi piace però dipende altre cose sì però dipende andrea dice anch'io faccio così e infatti mi porto sempre detto lo delle barrette virgola dice l'energia costa meno nelle live di el angel dice io stiro in estate camicie magliettine vengono sempre meglio stirate beh quello si camicie si camicie si andrea dice 1200 giri esce asciutta no esce ancora da sì non bagnata a me con mille giri usciva bagnata io ho sempre avuto lavatrice da 1200 giri bluorion dice asciugatrice e piego per tutte dei bimbi sempre le peggiori sono le camicie e casacchi di lavoro si infatti a me veniva in mente l'uniforme che mio padre usava per andare al lavoro io stiravo un tempo a me piaceva stirare mentre guardavo film perché potevo occupare il salotto quando avevo con i miei genitori ed era una ragazzina tanto tempo fa e stiravo io quelle una palla si erano da stirare asciugatrice l'asciugatrice però costa in energia e quindi no io non la userei anche però dipende io sono una se avete una famiglia sì io una tra l'altro facevo pochissime lavatrici una ogni dividendo in colori una alla settimana a volte e usavo i miei caloriferi per asciugare tutto si asciugava in un attimo virgola mi chiedeva di un romance che ho citato una volta dove facevano viaggi nel tempo o erano separati dal tempo ero interessato ma mi ero scordato di scriverlo ci hanno fatto un film o drini fenegger la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo cristiana mi chiede se seguo qualcuno su youtube o su internet che a tratti di cibo no no ogni tanto quando vedo una ricetta che mi piace semplice provo a ricordarmelo a fare cose ma praticamente no no io odio stirare dice merisana faccio tutto cuscino pulisco ma stirare no è un aiuto per la stiratura ci farei la firma dice cristina che palle a me piaceva farlo invece perché guardavo film mentre stiravo però oggi penso che sia superato poi da quando era andata a vivere da sola mi ero presa anche una bella vaporella perché mi piaceva e il mio ferro da si romano mai più stirata praticamente non avevo necessità le uniche cose che davvero avevo bisogno di stirare sarebbero state le coperte ma le guardavo io quindi qual è il problema chi se ne frega angel dice a me piace stirare peccato che ho l'anzi che i bambini si buttino il ferro addosso la piccola soprattutto che non è mezzo e tocca tutto sta risparmiando l'energia quindi state risparmiando sull'ambiente ragazzi e pensate anche a questo perché a prescindere che voi pagliate la vostra energia elettrica per produrla si inquina ancora oggi è vero che non sia energia eolica solare si inquina quindi evitate anche i consumi inutili per l'ambiente per l'aria che respiriamo so che non è quello il principale fattore di inquiramento ma da poco a poco si si fa io sono troppo pigra per stirare dice susanna però devo dire che con il ferro verticale risolto è più comodo perché ci vuole un minuto che cos'è il ferro verticale l'ho menzionato anche prima non lo conosco non lo conosco per niente nel mentre provo a introdurre un altro argomento posto che dopo quello anche come già ora live libera vi dicevo milano e negli ultimi tempi sono diventata campagnola inside nel senso che trovo milano inquinata e sporca soprattutto l'altro giorno che ci sono andata quando pioveva qualcuno di voi mi stava dicendo che pioveva cupa beh piena di negozi questo è la parte bella di milano c'è tutto senza dubbio però cupa oggi quando ci sono arrivato in treno ho visto i condomini con tutte le finestrele lì mi è venuto comunque un nostalgia senza dubbio però però le case erano piccole quindi oggi sento poi col naso l'inquinamento ad un livello a cui non lo sentivo quando ci andavo ho anche scoperto non so se ve l'avevo già detto che stando in casa in realtà si respira aria inquinata più inquinata di quella che sta fuori l'ho letto solo di recente sono cascata dalle nuvole cioè io nei dieci anni in ho vissuto da sola spesso per lavoro sono stata chiusa in casa e pensando almeno non vado fuori a ispirare tutte quelle particelle e invece era peggio dice che dicevano che l'unico modo per proteggersi era inserire un filtro dell'aria o se lo sapevo lo facevo subito invece non lo sapevo per niente francesca mi dice che per i programmi di cucina seguirò megan parliamo due secondini di harry e megan o l'altro giorno ho fatto la live in cui vi dicevo non c'era nessuna nuova news e questi le tirano fuori tutte ieri e oggi e oggi sono stata a milano e appunto e quando sto a milano non ho tempo di fare shorts eccetera ho fatto un mini shorts su william che ha portato george a una partita di calcio domani vi farò un resoconto perché harry e megan di nuovo fan cose e vi dico solo che niente vagamente lo trovo triste nel senso si stanno vendendo tutto quello che hanno per uno che era principe è triste e soprattutto alla fine quello che stanno davvero vendendo a netflix come al solito sono cose in cui ci sono loro perché quello interessa netflix non documentari bla 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 harry farà un documentario sul polo ma penso che ci sarà anche lui altrimenti non avrebbero venduto megan megan per esempio voleva vendere tante cose voleva solo fare la produttrice ma alla fine si è dovuta mettere davanti alla telecamera perché è quello che vuole la gente non ha nient'altro ha la sua faccia da vendere andare a mangiare fuori in quattro dice glorio non salassone pochi viaggi fatti supermercato e panini o gastronomia esatto io sono della stessa della stessa scuola panini no però mi sembra strano io un tempo era una grande fautrice dei panini adesso se prendo il pane mi gonfio per i dieci anni in cui ho vissuto per conto mio il pane l'ho preso pochissime volte pochissime sono passate le fette biscottate panini pochi oramai susanna mi chiede se ho presente quello che si usa nelle sfilate emana vapore l'ommetto io metto la camicia il pantalone sulla stampella con un po di vapore si tolgono tutte le pieghe possibili poi è piccolo a intendi che se prendi qui spari il vapore e si asciuga non è praticamente non è una sorta di lavaggio a secco addirittura non sapevo funzionasse così elisabetta dice approfitterò delle tue live per stirare non stiro tutto le spugne per esempio escono molto bene non le stiro quasi mai quali spugne gli accappatoi intendi a ok forse quelli in effetti non uso quasi più accappatoi spugna uso solo microfibra ma da un po canali di cucina di letta secco cucina botanica allacciata il grembiule quando devo fare qualche torta di solito vado su ricette di giallo zafferano o benedetta non so cosa non benedetta parodi qualcun altro però non è che seguo canali di cucina però mi piacerebbe forse per cucinare un po meglio da quando i ragazzi non mangiano più happy meal costa pure il mac il mcdonalds è aumentato da morire tantissimo un tempo non costava sui 6 euro 6 e 50 un menù medio adesso sotto ho visto che l'unico modo per risparmiare un attimo nel caso te lo dico blue orion scaricati la app assolutamente ci sono anche menu familiari eccetera che non comprendono happy meal per forza è fatta da lì ognuno con un cellulare si scarichi la app e così per esempio un menù da 10 riesce riesce a costarti 7 altrimenti è un salasso davvero angel dice un filtro dell'aria dove è un filtro dell'aria infatti devi comprare un condizionatore o qualcosa di simile una pompa di calore il filtro deve essere lì o qualcosa di simile elisabetta segue l'aceto il creme ule cooker girl ce ne sono tantissimi e infatti ce ne sono tantissimi e poi arriva megan markle che vuole insegnare a cucinare c'è qualcuno che lo sa fare meglio di te virgola dice che carri aprirà il suo only fans quando non avrà soldi vabbè ve ne parlerò meglio domani ma potrebbe esserci un mercato nel senso non me sicuramente ma oggi ieri ha fatto un è andato un altro piccolo evento e la conduttrice che sorrisi a guardarlo cioè i gusti sono gusti e io pensavo megan si starà arrodendo perché quell'altra era pronta a saltare in braccio probabilmente perché era un principe tesoro c'è di meglio in giro benedetta rossi si probabilmente era lei benedetta rossi gli hamburger dice cristina sono sottilette intendi da mcdonald's io vi invito si pubblicità occulta a provare burger king invece di mcdonald's da quando c'è burger king io non vado più da mcdonald's perché le patatine di burger king sono molto più buone e loro cucinano credo alla piastra o sotto la fiamma la carne ed è molto più buona tra l'altro costa potenzialmente meno infatti io da loro prendo un menù da 4 95 euro che è piccolo è in teoria una sorta di happy meal ma non è vero mi riempie come se fosse uno grande è buonissimo molto molto più buono di un mcdonald's roberto dice che lui usa sempre la app per ordinare il più canto il più caro secondo me resta il kentucky fried chicken non saprei perché non ci sono mai entrata ecco qui si palese il fatto che a me non piazza molto mangiare pollo una volta al bicocca village che ogni tanto frequento lì c'è un kentucky fried chicken cioè tenevano solo la fin la porta aperta c'è un odore di fritto madonna no no a me non piace il pollo fritto non mi piace neanche quando c'è c'è la doratura sopra no 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 a parte che non ho più lo stomaco per questo ma comunque non mi è mai piaciuto particolarmente a blu non dice che usano l'app del mac altrimenti oppure ancora poche pizzerie fanno un giorno pizza un euro e ci togliamo lo sfizio è di questi tempi bisogna davvero ingegnarsi industriarsi e a questo proposito per esempio sono andata al centro commerciale che frequentavo prima io vivevo nella zona nord metropoli non so se qualcuno di voi lo conosce che sta a quarto giaro lì all'inizio di quarto giaro io ci andavo a piedi da casa mia stavo a comasina che tristezza nel senso che si tiene bene ok ma chiudono negozi ne hanno chiuso un altro paio pazzi vuoti che nessuno prende perché quella è una zona abbastanza popolare milano costosissimo ovunque ma li costa meno ma è una zona comunque popolare in questi tempi di crisi la gente ha stento il modo di pagarsi il cibo e quelle altre necessità non compra tante cose superflue e i centri commerciali vivono di quello non peccato elisabetta conferma che burger king è davvero buona buona anche le patate le alette di pollo ha infatti tutti stati dicendo meglio burger king ma anche rothaus rothaus è buono però costa di più rothaus altronde ti fanno sedere in un taro ti portano il piattone eccetera beh anche se con qualche promozione forse costa un piatto 9 90 forse però a questo punto burger king mi costa la metà a me personalmente in inghilterra c'è proprio una catena che si chiama kfc si è arrivato anche qua in italia anzi in realtà in perù io lo sapevo da altri in perù kentucky french chicken è arrivato da diversi anni prima che qui in perù d'altro onde vanno matti per il pollo e infatti diverse persone verso peruviani dicevano è arrivato che il pari chicken in italia non ci sono mai andata mai però non mi piace il pollo anzi una volta ci andrai a berlino con mia cugina e l'ho mangiato ma proprio come una volta e mi è bastato e me dice che consiglia il canale di davide zambelli per buone ricette bluorion dice adoriamo il kentucky french che ma costicchia ora i bimbi piace old wild west ma è simile ristorante sì anch'io ci andavo ragazzi voi avete visto che ha aperto non penso solo a milano una specie di mcdonald's o burger king di lusso five guys che credo che sia americano è una catena americana io non trovo il senso di questi posti qui tra l'altro ne hanno aperti diversi o ci andranno solo i turisti giuro non l'ho capito ce n'è uno nella stazione centrale ho provato ad andarci una volta perché burger king e mcdonald's erano pieni avevo fame vado di là ho voglia di un hamburger cioè guardando il prezzo ho strabuzzato gli occhi cosa 12 euro solo per il panino forse mi sto inventando il prezzo è ma era così era più di 10 euro solo un panino e non c'era nessun menù cioè se tu volevi mangiare poi patata e la bibita finivi sui 20 euro 20 euro per una singola persona o cos'è cioè manco fosse oltre il west road house me la fanno costare meno dubito che tu lo faccia così buono ma anche se fosse così buono 20 euro per fast food letteralmente no non so qualcuno mi dica se ci è andato e davvero c'ha questa qualità superiore non credo non credo davvero marco diceva che non stira da anni tre mollette vuola e se fa la piega a men fa molto stile panghi io non faccio neanche le mollette proprio perché sono una io c'ho questo mega coso per tendere i panni lo stenditoio e li metto un singolo panno su due tiranti diversi in modo che non sia attaccato e si asciughi prima tra l'altro vicino al calorifero e asciugava che era una bellezza robert di roberto dice io amo il sushi olio che nitte visto che costa tanto menù a pranzo a cena ancora di più ci vado poco e altre volte me lo faccio a casa il risparmio e io non sono mai andata un sushi non mi piace il pesce così tanto ogni tanto voglio di provare anche solo per dire ci sono andata però di nuovo per me si tratta spendere soldi quando ho fame e trovarmi davanti cose che poi non mangio io al cinese sapete cosa mangiavo sì lo so sono una disgraziata ma è così ragazzi io mangiavo il riso alla cantonese quello è mi riempiva e sto bene così di recente ecco faccio pubblicità a questo posticino perché se lo merita se siete in zona farini c'è un ristorante cinese tra farini e via l'estelvio adesso ci hanno aperto un libraccio lì dal libraccio andando più lontano dalla upin c'è questo posticino qui non mi ricordo non è quello all'angolo è c'è questo posticino dove fanno un cinese buono non per esempio pieno di prittura niente troppo oliato infatti costa un pochettino di più un piatto tipo 10 euro così o anche forse un po di più ma ne vale la pena mia mia cugina mi ci aveva portato e avevano queste questi involtini molto buone cioè una qualità diversa e infatti il tizio è stato premiato con qualcosa aspettate adesso cerco questo posto qui per segnalarvelo perché merita merita people merita più gente nel caso ci ci andaste avete anche voi il fastidio gigantesco so che lo hanno fatto per evitare la concorrenza bla 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 ma è un fastidio e basta che adesso se cliccato in indirizzo su google non vi viene più ma vicino perché le regole dell'antitrust era comodo e adesso invece devo andare su maps ogni singola volta è una palla allora mi fai gli esercizi e mi dici che cosa c'è qua via carlo farini questo è il sì ma non me lo fai vedere io come faccio a sapere cosa c'è qui non me lo stai facendo vedere rilievo traffico trasporto pubblico altro come fa perché non me lo fai vedere non c'è non non si sono messi su su cosa non hanno messo a c'è uno vicino un fit active no ma quello è l'altro lato ristorante chef j ecco chef j quello è quello di cui parlavo e c'è anche scritto su su maps che ci sono due simboletti di denaro nel senso che non è economicissimo ma ne vale la pena a pranzo ne vale la pena è così bello comprare cibi che ti piacciono dice federico e te li cucini a casa e risparmi anche se ormai anche i prezzi del supermercato anche i prezzi del supermercato sono le stelle sì infatti per esempio io ho imparato a farmi la pasta al pesto da sola con il mortaglietto io adoro la pizza virgola mi chiede se su cucinare cibo italiano tipo la carbonara veramente ci ho provato una sola volta in vita mia la carbonara e non l'ho fatta più suppongo che mi fosse venuta mediamente bene mio fratello era piaciuto ma non l'ho fatta più è pesantissima io non mangio quasi più insaccati ogni tanto prosciutto cotto eccetera ma quasi non la mangio più e quella adesso infiligerò un colpo al cuore a tutti coloro che sono di roma ma è una bomba ipercalorica no cristina dice parlando di five guys e che sono panini all'ostrica ma infatti francesca dice burghi era buono lasciamo perdere però burger king mi ricorda un po burgi si five guys è buono dice susanna ma troppo pieni i panini e troppo cipollosi ecco la cipolla non è il mio piatto preferito frascati dice five guys non merita grazie per averlo provato per me overrated ma infatti e non capisco perché ci siano ancora chi è che va a mangiare lì infatti sono sempre più vuoti non lo so ma gli americani forse c'è anch'io da straniera vado in un paese vedo una catena che conosco mi metto lì e il bello è che per gli americani quei prezzi lì sono prezzi normale quindi loro ci vanno però in altri punti non lo so chi ci va io preferisco il pastin con polenta nei pub locali qui da medici e merisana a me piace sweetburger non lo conosco hanno diversi tipi di patatine classiche twister e patate dolci dice susanna non credo di averlo mai visto sarà diceva io adoro la pizza sì sì anche io per fortuna a milano se ne trovano tante di buone ovviamente napoletane trapiantati ma ce ne sono diversi pane e salami qui da me dice francesca e del maiale non si butta via nulla a me piace il prosciutto cotto però io sono lievemente sulla via del vegetarianismo lievemente nel senso che una volta qualcuno ha portato da noi un maialino cotto ma intero e io non capisco perché me lo devi portare così scusate no mi sembra una crudeltà e io lo so che mangio il maiale così e infatti avevo iniziato a mangiarlo un po meno ma non per quell'immagine in generale a parte che costa a parte che ormai mi fa male allo sto a parte che gli insaccati nel caso sappiatelo ragazzi sono tra le prime cause di cancro allo stomaco o ad altri o al colon e varie robe e purtroppo è una verità soprattutto la salsiccia che per fortuna a me non è mai piaciuta ma sono scarti e vi fanno male la settimana in cui i miei non ci sono stati non ho mangiato carne per una settimana ma non perché non è pesante cioè mangio altre cose e quando la mangio poi è buona ok dovrebbe essere sostenibile in generale ma tu è il mangio la carne se vegetariana ecco mi chiedeva roberto vegana mi dà le vibes di una vegetariana non so perché perché sono animalista no per esempio le uova felicemente tra l'altro delle mie galline qui il pollo non mi piace quindi mi è facile essere non tanto non mangiare tanto pollo maiale come vi dicevo sempre meno susana dice ho capito chi è chef j fanno i noodles a mano sono bravissimi è la prossima volta che vado a milano vado lì mi hai fatto venire voglia mi viene voglia adesso sì sì fanno proprio buono mio nonno aveva galline coniglie dopo essere cresciuta vedendo animali morti non mi fa più senso nulla comunque io non mangio insaccati e carne due volte a settimana sì ci sta io non è che critico che immagino ancora carne quindi non lo posso criticare ma io ho galline no non le voglio ammazzare perché devo ammazzare le galline per darmi il pollo che non mi piace più di tanto quando preferisco l'uovo e le mie galline sono tenute bene sono felici a me piacciono le verdure tutte crude e cotte il pesce lo mangi sarà dice sì lo mangio ma non di nuovo così tanto il merluzzo bollito oppure quando si fa appunto questo sebice qui che è praticamente pesce marinato nel succo di limone con sedano e altre cose per dare un po di sapore però è quello simpo me un po bene un po meglio l'idea l'indice è buonissimo o pere o musso zampa del maiale muso del vitello depilati bolliti raffreddati tagliati in piccoli pezzi serviti freddi conditi con sale un sacco di limone tu stai risvegliando la vegetariana che mi fa no non è sono onesta e non è un modo per offendere nessuno mi fa disgusto l'immagine non se io dovessi ammazzare un animale diventerei vegetariana in maniera totale e infatti ragazzi io sono onesta su questo non vedo l'ora che inventino la carne sintetica perché io mangerò quella passo direttamente a quella per sempre se posso evitare di far soffrire un animale lo faccio volentieri poi come vi dicevo non sono completamente ipocrita lo so che qualche animale va ammazzato perché o costa mantenerle eccetera però preferisco essere sostenibile ecco questa è la mia principale preoccupazione per il mondo no l'allevamento intensivo che per forza è quello necessario a dare la carne a tutti noi è lesivo per l'ambiente inquinano gli allevamenti intensivi per chi non lo sapesse per quei pochi che ancora non lo sapessero le deiezioni degli animali producono metano che inquinano da morire la pianura padana uno dei motivi per cui è così inquinata sono gli allevamenti intensivi non ci devono essere la verità è questa e purtroppo per come stanno le cose cominciano a costare così tanto la carne che fra un secondo me un 40 anni ormai se la potranno permettere solo i ricchissimi anche chi come in italia sicuramente io lo capisco è per le buone ricette per l'idea di cibo migliore più sano e genuino eccetera vorrebbe la carne vera non potrà più permettersela ad un certo punto questo mondo non è semplicemente fatto per avere tutto quell'allevamento intensivo lì a parte che secondo me uno dei motivi per cui ci stanno c'è un picco di cancro allo stomaco in persone giovani non so se lo state sentendo tantissimi persone in america soprattutto è il consumo eccessivo di carne non è fatto anche questa è una cosa su cui mi sono informata il nostro corpo in teoria non è fatto per mangiare tutta la carne che noi mangiamo anche due volte a settimana in teoria non è fatto non è che t'ammazza ok alcune persone in particolare sono predisposte a rigettare un po la carne ogni volta forse si rilasciano troppi i gastrici sto cercando di spiegarvi quello che avevo letto non prendetemi parole fate le vostre ricerche però nella preistoria noi mangiavamo poca carne comunque per la maggior parte cioè quando si riusciva a cacciare che cosa il bisonte nel fante quello che era il mammut poche volte non durava sempre quella carne lì poi per questo ci siamo convertiti in agricoltori si mangiava soprattutto roba agricola come fanno i cinesi che infatti stanno benissimo su altre cose si fanno venire cancro allo stomaco perché bevono acqua calda ma è un'altra storia il nostro corpo non è fatto per mangiare tutta quella carne lì e quindi lo rigetta ad un certo punto specie alcune persone con probabilmente con un particolare dna anche il nostro stomaco aggredisce la carne più di quanto dovrebbe fare normalmente allora si irrita e col tempo l'irritazione degenera in cancro la carne sintetica se non fa male la salute sarebbe un'ottima alternativa l'idea no è che non dovrebbe fare male alla salute infatti è solo un concentrato di proteine in teoria tuttavia dice io sono felice con riso in bianco olio e parmigiano grattugiato sono ancora in fase di svezzamento oh mio dio cristina dice ma sai che ad una mia collega un falchetto ha rubato una gallina una delle paure che ho a volte qui non ci sono falchi però non li ho visti finora ho paura delle faine marisana mi chiede sono mai provata la cucina indiana a me piace molto ci vado con gli amici miei no non piacciono le spezie come il curry a me non piace per me è piccante il pepe io la cucina indiana non andremo d'accordo non le renderei giustizia quindi evito virgola mi fa una domanda che penso che sia sarcastica non mangeresti al cocinio segoviano che cos'è roberto dice dei vegani non ho capito però perché elimina le latticini le uova capisco ma il latte perché lo togli dicevo non sono d'accordo che il latte lo mangio ancora però in teoria per fare tutto il latte che consumiamo le mucche stanno in allevamenti intensivi e l'allevamento intensivo sappiatelo l'importante è che se volete continuare a mangiare carne come anch'io faccio l'importante è saperle le cose allevamento intensivo significa che le mucche devono stare sempre incinta alla fine e a volte nasce un vitellino femmina che sopravvive a volte il vitellino maschio che va ovviamente macellato e questo anche voler essere buoni nel senso non puoi mantenere un toro di fatto cioè uno va bene ma non tutti i tori che nascono quando consumano consumano un sacco per sopravvivere e per cosa inquinano quando sono grandi per cosa perché non produca niente perché il toro non produce niente e allora va macellato e allora se non vi piace troppo l'idea del vitello purtroppo funziona così perché ci sia il latte ci deve essere anche il vitello e quindi ci deve essere anche l'industria della carne per quello i vegani penso che non vogliono mangiare latte io nella mio nel mio sistema ecosostenibile ideale mi compro una capretta per un giardino per fare il mio non riesco più a mangiare coniglio dice francesca da quando ho avuto un coniglio nano come ho detto dice valentina mangio carne ma per evitarne l'abuso mangio anche fake meat e ci sono alcune tiende che producono prodotti molto simile si dice praticamente torneremo una volta la carne la mangiavano sulle ricchi ma sì ma è possibile ci sono intere diete che mangiano pochissima carne in teoria anche la dieta mediterranea prevede pochissima carne soprattutto carni bianche non la carne della manzo sarà dice no la carne sintetica no ma io mangiare ceci lenticchie fagioli tutto perfetto ceci lenticchie fagioli infatti le mangio anche io ma in realtà la carne sintetica non ti piace il concetto soprattutto agli italiani io lo capisco gli italiani hanno una grande tradizione culinaria che va anche rispettata e produce cibi ottimi non ti piace il termine sintetica ma in realtà significa che solo un concentrato di proteine non è diverso da certi beveroni pieni di proteine che mangia alla fine stanno riuscendo a replicare il sapore della carne con dei succhetti che sono pieni di proteine alla fine noi abbiamo ridotto molto la carne i cinesi bevono acqua calda e in che senso a non sapevi questa cosa e infatti loro si lamentano spesso negli hotel una volta sentito di un soprattutto anziani cinesi ma non so se la cosa sia diffusa anche tra i giovani un bicchiere così ci mettono acqua calda e poi si si meravigliano che si rompe perché loro hanno questa tradizione non bevono te da quello che ho capito bevono acqua calda proprio così senza sapore senza niente lo ritengono un tocca sana ma in realtà non è così infatti loro hanno un'alta incidenza di cancro allo stomaco perché temperature troppo fredde o troppo calde lo stomaco non gli piacciono queste cose o va fatto in maniera come si chiama moderata non come lo fanno loro e quindi hanno hanno questo medusa dice ti capisco se io non ho la carne in frigo sto ok lo stesso e ti capisco mi sono sempre rifiutata di vedere nelle fattorie dei miei pari dei miei vari parenti però le uova e formaggio a chilometro zero top sì il coriandolo e il dramma in che senso il coriandolo e il dramma il coriandolo è un'erbetta che io adoro concordo con il fagiolame dice barbara sì infatti tempo fa ho scoperto farro e varie altre robe del genere legumi si sta meglio ceci ceci da quando ho scoperto i ceci mi piacciono tantissimo roberto ha un'obiezione però è se al supermercato il cibo vegano costerà sempre più della carne vera sarà difficile invogliere le persone essere più sostenibili in realtà si arriverà ad un punto critico nel senso che a parte che vegano è diverso da vegetariano ad un certo punto in realtà c'è anche una produzione di massa tipo la carne sintetica adesso quella che viene definita così costa un sacco perché ancora non c'è un sistema di produzione di massa perché non c'è un mercato nel momento in cui ci sarà il prezzo comincerà a scendere e quindi costerà di meno federico dice io sono intollerante al lattosio quindi solo latte di cocco medusa dice forse perché sfruttano gli animali rispondendo a roberto per il latte però io sono del parere che le fattorie di casa non vanno a sfruttare eccessivamente ma infatti no le fattorie di casa almeno tu sai come stai tenendo l'animale le uova che fanno le mie galline sono non sto più comprando uova io prima compravo solo uova biologiche adesso più biologico di così si muore mi ha fatto ridere l'altro giorno credo che non ne le abbiamo più la mai visto è la gallina aveva fatto un uovo così gigante il quasi il doppio delle sue uova normali e poi aveva fatto un altro vetto così nel senso basta mi sono arresa io chiudo e battenti povera gallina pure io non mangio il coniglio dice virgola da quando ne ho avuto uno comprensibile merisana dice oggi vicino di casa mia c'era un bel greggio di pecore che brucava felice all'aperto sì infatti poverine io come te sul piccante sulle spezie mi diceva cristina al peperoncino sono pure altamente intollerante se non proprio allergica e lo zenzero mi da noia lo zenzero non riesco mai a prenderlo purtroppo io sto sorridendo perché mi sono resa conto adesso che siamo caduti o finiti sul tema del cibo e stiamo parlando solo di quello ma sappiate che è una cosa che accomuna gli italiani ma anche i peruviani sono fissati se comincia a parlare col cibo parlano di tutti tipo i parenti più anziani dice medusa con fattorie producono per lo stretto necessario per loro stessi poi siano tipo uova in più le danno i parenti che non hanno gli animali è infatti per esempio oggi per mia nonna è venuto il suo medico mia nonna ieri è caduta nel cortile stava col suo girello tutto è caduta di faccia pensavamo che si fosse rotta il naso invece per fortuna le hanno messo la mia madre anche io le abbiamo messo talmente tanto ghiaccio che sta bene io pensavo magari si è rotta il naso per fortuna no è fortunatissima 92 anni è venuto il medico e mia madre gli ha detto vuole un po di uova e l'altro felice le ha prese le uova come si chiama biologiche abbiamo cinque galline e un gallo il gallo per esempio in teoria dovrebbe farlo fuori perché non serve a niente però fa sentire le galline al sicuro in teoria aumenta la produzione di uova un ovo al giorno e noi siamo non siamo non prendiamo cinque uova al giorno infatti l'altro giorno avevo iniziato a fare con una ricetta di quella credo di benedetta rossi una torta di carote perché richiedeva ben quattro uova e non portava burro nel latte solo poco olio 100 millilitri di olio di semi di girasole molto morbida e soprattutto non pesante con carote e un 100 millilitri di succo d'arancia buonissima e l'ho fatta più volte perché appunto a parte essere semplice mi prendeva tutte le uova cristina dice il termine sintetica sa di plastica esatto sa di plastica virgola non ho capito la tua frase dovevano carne alternativa per migliorare la pubblicità medusa dice io avevo una coinquilina cinese giovane classe 94 vi giuro beveva solo h2o calda le abbiamo chiesto se per lei e per bellezza tipo sono rimasta perplessa è sì praticamente la bevono calda l'acqua l'idea l'indice io resto un po scioccata quando vedo dei shorts di morning routine di gente che beve roba con ghiaccio a colazione ma gli americani per esempio bevono solo iced coffee tra l'altro ecco gli americani hanno questa cosa di spendere anche 8 dollari o anche 10 per una beverone da starbucks con mille robe che è solo un concentrato di zucchero infinito ho sentito tanti zucchero caffè con varie robe e ghiaccio un sacco ho sentito tante youtuber americane che sono venute a vivere qui e poi più di una almeno e poi sono tornata in patria a provare il loro iced coffee lo volevano ma a loro ha fatto schifo dopo che hanno cominciato a berlo dopo essere state in italia hanno capito che è un concentrato di zucchero io vengo dalla sardegna dice roberto che ha una tradizione culinare praticamente tutta a base di carne ed essere vegetariano in questo contesto è davvero un bastone tra le ruote io non nego che la carne sia buona e tutto quanto vi invito solo a un consumo sostenibile questo non essere vegetariani per forza forza non ha di el non farmi più spaventare dice barbara e invece è sempre così questa nonnina è che è una di quelle donne molto attive che non sa mai stare ferma e però questo significa che infatti è accaduta e si è rotta un'anca due anni fa è in piedi perché ogni mattina lei fa tra l'altro anche per le sue braccia la sua ginnastica e poi deve lavare i piatti se le proibisce di lavare i piatti non si incavola ma è una santa non fa altro che pregare il suo rosario eccetera l'altro giorno però a parte che si bagna sempre un po le maniche poi si ammala le dico si va bella vai piatti ok voleva stirare un tempo non ha più la forza di stirare adesso stira a mano è quello il suo compito lei deve far qualcosa le dico va bene puoi lavare i piatti è la prima volta che mi risponde così non sarai certo tu a impedirmelo e ho riso in faccia e anche lei si è messa a ridere ogni tanto tiro fuori non è più santa il suo diavoletto risponde a tono mi ha fatto molto se ridere è simpatica ok non so se ci sono altri commenti penso di essere dice susanna l'anti italiana per eccellenza non mangio carne mangio più risa e cereali che pasta per risparmiare prendo la pizza surgelata con i buoni pasto cittadinanza tolta no ci sta ognuno ha i suoi gusti anch'io negli ultimi tempi ho preso un po più pizza surgelata anche se dipendo dalla pizzeria anche ce n'è una qui per esempio che vale i suoi soldi si la fa buona silven dice a me starbucks non ha mai convinto io in realtà gradisco il loro cioccolato che non è quello denso che danno nei bar qui non mi piace troppo quello denso troppo concentrato mi piace più il cioccolato con latte che praticamente latte con nesquick a me piace quello lì però non lo prendo da una vita in effetti a virgola diceva che la carne sintetica dovrebbero chiamarla carne alternativa sì infatti ma non è stato ancora veramente sdoganata questa carne qui sicuramente quando inizieranno inizierà a costare meno produrla innanzitutto e quindi sarà pronta per il consumo di massa ci sarà termine di marketing qualche genio della pubblicità si inventerà un nome corretto da noi diciamo che ha il bis dice medusa bis per dire che sempre movimento in dialetto si esatto mia nonna il bis deve muoversi mia nonna casca ogni anno tipo perché non conta fino a dieci fa scatti per fare le cose ma deve star calma e tranquilla che bellina la nonna dice antonella sei così fortunato di averla ancora ancora parla solo spagnolo ah sì però l'italiano l'ha dimenticato allegramente nel senso che lei ha vissuto qui per una decina d'anni tempo fa all'inizio degli anni 2000 poi insistito per tornare nel suo paese i figli l'hanno accontentata e poi si è dimenticata l'italiano ma lei parlucchiava italiano e poi adesso secondo me lo parlucchi ancora o lo capisce ma non c'ha voglia e quindi ascolta i nostri discorsi ho questa sensazione e le mettiamo delle telenoveli su youtube telenoveli turche un sacco all'inizio ma poi l'altro giorno sentivo di questa magari qualcuno di voi la conosce non so se sia mai arrivata in italia questa telenovela si chiama di una tizia che si chiama talia questa tizia tra l'altro è messicana ma adesso vive negli stati uniti col marito tony moffola credo che era il primo marito di mariah carey di vent'anni credo più vecchio di lei insomma più bruttino di lei lei invece era una bella donna e da ragazzina faceva queste telenoveli c'ha una voce tra l'altro che fa venire voglia di darle mille schiaffi provo a interpretarla non ci riuscirò mai però hai poi si assi perché mi assi sesto non puoi essere assi madonna una smorfiosaggine infinita ma soprattutto sembra finta e infatti poi ci sono momenti in cui più serie in parla in maniera lievemente normale sono le solite storie che piacevano all'epoca queste telenoveli si chiamano una era adesso stiamo facendo vedere mia nonna maria la del barrio e l'altra cos'è ma non erano arrivate qui in italia credo infatti le stiamo facendo vedere in spagnolo e l'altra era un'altra telenovela assurda di lei per c'è sta scena per esempio di lei che tra l'altro si era fatta circuire da sto deficientino qui che a me non piaceva neanche tanto come attore e si stava lasciando morire perché lui l'aveva lasciata e i nonni erano lì e lei lasciate ora lei sta morendo di crepacuore ma alzati in piedi era la regina delle telenovela degli anni 90 però sarà che noi eravamo sudamericana l'era più centroamericana io non ricordo di averla vista più di tanto queste le telenovela sue vediamo come si chiamavano queste telenovela marimar questa avevo fatto vedere a mia nonna all'inizio e l'ha seguita tutta e adesso sta seguendo mariella del barrio tania è anche cantante cristina diceva oddio che vocina sì sì andate a guardare voi stessi marimar episodio in spagnolo andate a guardare episodio se ne spagnola guardate come parla e cioè mi ricordo un aneddoto della mia nonnina dice roberto che è mancata nel 2005 mia sorella aveva il vizio di odorare il cibo così mia nonna le disse in dialetto sempre odorando perché non ti odori il cibo però tua nonna vuole sentirsi utile dice sarà certo certo lei vive per far quello è della è della scuola riposerò quando sarò morti non vede l'ora già momenti io ieri ho fatto un piatto vegano gnocchi di cavolfiori li ho fatti multicolor usando quelli misti di vari colori solo cavolfiori farina sale e pepe interessante mia madre faceva una cosa che non so se fate anche qui giuro perché o non so se un piatto che si è inventata lei mia madre non cucina molto bene magari mi starà pure sentendo ogni tanto mia madre segue le mie dirette c'è sta donna non c'è la privacy lei bagnava il cavolfiore in nell'uovo e poi lo friggeva e la parte più buona ovviamente era la parte con la frittatina forse era per farlo mangiare a noi bambini quando erano piccoli sarà dice pizza nel forno a legno è la migliore beh quello senza dubbio io spezzo gli spaghetti dice sì il traditrice nelle patrie io sono riuscita a non spezzarli più cesto lì ma lo fanno tutti non so come fate con gli spaghetti li mettete e lasciate che affondino da soli perché io quello che faccio è stare lì vicino prendo un coso e li spingo piano piano senza spezzarli fino a che non so non so perché avete nominato so platine perché le vede mia nonna link di testa mondo di patti per ragazzine io prendevo in giro mia zia a suo tempo che si guardava le sopa per adulti che cringe tornando al mi ricordo il mio prozio sordo selettivo dice mai sarà dice mia nonna guardava topazio ma io vorrei rivederlo topazio perché lo guardavo quando ero piccola ma non credo che ci sia su youtube però quella era giornata le novella degli anni 90 e mia nonna forse guardava quelle ancora prima addirittura l'altra mia nonna quella paterna invece non ama tanto le telenovele lei invece si guardava e ha un senso dell'umorismo diverso si guardava questi programmi americani del vecchio west avete presente tipo la casa nella prateria ce n'era un altro bonanza credo che si chiami almeno così arrivato così in perù e in spagnolo e quelli se le guarda in continuazione far ridere dici ricordo le prime telenovele dice gigliola che vidi la schiava isaura è un altro titolo stupendo anche ricchi piangono quelle erano sopa per americane credo mai visto anche ricchi piangono hai mai scoperto il nickname di tua mamma dice virgola no devo scoprirlo antarella dice sì certo cavoli fiore nell'uovo lo facciamo anche in sicilia allora non è una cosa che si è inventata lei francesca dice ma vuoi mettere beautiful mia madre guarda beautiful adesso tra l'altro l'altra volta a milano avevo visto un cartello in metropolitana che diceva protesta contro i nuovi episodi di beautiful mezz'ora di spazio per beautiful ma in realtà fra le pubblicità sono dieci minuti di telenovela effettiva mia madre guarda beautiful ancora medusa dice nel dubbio ciao mamma di el no l'unica cosa è che l'ho chiesto di non intervenire mai quindi non si farà sentire lady elin dice io ho visto esmeralda la versione messicana di topazio mia nonna dice chiaretta argentina ma in italia da più di 35 anni spezza ancora gli spaghetti se le dice qualcosa e dice che così sono più buoni e si adora le telenovelas medusa dice la signora del west non alla signora del west era molto moderno quello è anni 90 in 80 forse no quello che guardava l'altra mia nonna e degli anni è del tempo della casa nella prateria ma prima forse anni 70 io lo guardavo ammetto da piccolo ed era bello onestamente giorgio dice bonanza arrivò anche in italia si lei lo adora se si guarda tutti gli episodi federico dice con i miei nonni in argentina guardavo celeste antonella ma io riconosco queste telenovela con andrea del bocca giusto bonanza aveva lo stesso attore protagonista nella casa della casa nella prateria si infatti poi guardandolo un attimo l'ho visto due secondi con una qualità pessima ma mia nonna va bene guardavo pensavo ma questo mi sembra un setting inglese cioè la lingua originale è in inglese michael landon un giorno devo rivedermi queste telenovela e farvi una recensione di un episodio per ridere da morire il problema è che per fare una recensione dovrei vedermele tutte e non c'ho tempo voglia alla telenovela più bella e cuore selvaggio io morirò credendo che non sia così nel senso che non era una telenovela che davano no ne avevamo parlato una volta qui sulla rai non l'ho mai visto cuore selvaggio ma il tizio come si chiamava il tizio io le mie zie compravano all'epoca le riviste con le telenovela e che con interviste eccetera le compravano in edicola e io le leggevo in casa per chi convivano con noi per un certo periodo le leggevo perché non c'era niente in casa da leggere e quindi sapevo di cuore selvaggio da queste rivistine qua ma non l'ho mai visto so solo che lui non l'ho mai trovato bello stellino non la conosce nessuno dice chieretta no in effetti no telenovela da 190 episodi dice federico ma certo io ho avuto il mio periodo di in cui guardavo il segreto e non so come sono arrivato a questo punto ma guarda che glielo confesso c'è stato un momento in cui ho guardato anch'io beautiful per la qualche settimana forse due tre settimane poi ho capito l'andazzo in questo periodo mia ma siccome mia mamma la guarda so cosa sta succedendo fa troppo ridere fa troppo ridere perché si fosse perso rigge con la nuova faccia perché è un altro attore sta divorziando da brucca perché erano felici perché è stato ingannato e crede che brucca abbia trattato male una bambina forse sua nipote ma brucca non l'ha mai fatto e sta divorziando per questo brucca a un certo punto va a chiedergli spiegazioni ma perché devi dirmi cosa ho fatto e siccome l'altro crede che abbia fatto questo gesto così ed è disgustato dalla sua falsità la detesta e sta tornando da taylor nella solita le solite due che gli stanno intorno ma vuole sposare taylor e io pensavo ma non è necessario che la sposi è a parte che non sei ancora divorziato da questa qui non ho capito se effettivamente divorziato poi sicuramente ci sarà il colpo di scena con lui che scoprirà che il che in realtà brucca non ha mai fatto quella cosa e quindi non è una cattiva persona ma non ho capito perché devo sposarsi subito stellina diceva federica e con andrea del bocca non l'ho mai visto eduardo palomo ecco no non mi piaceva esteticamente labbra troppo sottile è morto anni fa e anche l'attrice è morta pochi anni fa o mi dispiace tantissimo tantissimo e poi c'è grecia colmenares che viene al grande fratello la grecia colmenares per chi non la sapesse era la protagonista di topazio e ancora qui vegeta sarà dice da una parte mia nonna guardava le telenovela su celle di rovo sissi e poi dall'altra guardava colombo derrick francesca dice che ha conosciuto ron mossi il mascellone canta benissimo chiedo venia è il nome del nickname della persona ciao non trovate che la megan abbia un non se che di giulia roberts cos'è questo paragone sacrilego quando era più giovane anche se la principessa è più carina chi sarebbe la principessa megan megan è una duchessa non una principessa no non trovo comunque la casalinga di volghera dice eduardo palomo il personaggio quando il diablo taylor è la donna di plastica sì ma infatti quell'attrice era bellissima da giovane bellissima e certo oggi avrebbe rughe eccetera ma secondo me sarebbe rimasta molto più carina c'è stato un momento in cui si era fatto un filler terribile rigia chiesto l'annullamento a federico dice mia madre vede beautiful ne sai più di me anche mia madre ma cerco di non guarda giorgio ci saluta buonanotte grazie per le chiacchierate buonanotte a chi va ma no va tra un mese si saprà se effettivamente ottiene l'annullamento bruco dice antonella ormai non sa più che farsi dopo suo marito il padre di suo marito il fratello il marito di sua figlia amici vari ma non è troppo mi ricordo che ho visto questo meme che diceva di due che di uno che si era fatto bruc e le chiedeva quando è stato il tuo ultimo ciclo e lei guardava così e il meme diceva non lo so forse nel 1989 sì ne parlavano ancora come se potesse rimanere incinta ma ormai aveva 50 anni portate benissimo eh ma comunque adesso non so neanche quanti anni abbia brucca di beautiful esattamente com'è che si chiama l'attrice brook logan catherine kelly lang catherine kelly lang è del 66 76 86 96 2006 2016 si avvicina i 60 58 anni no portati bene dai c'era pure le telenovela dice le idee lì la donna del mistero che andava forte pure medeset iniziò a farlo con ed era oramai se chiediamo ogni volta che parliamo di telenovela sento che cadiamo in un barattro tutti quanti insieme merisana dice beautiful poi non guardarlo per vent'anni e poi se lo rivedi non è cambiato nulla nella trama sì infatti siamo sempre è una roba interribile infinita assolutamente ho visto lei che bacia lui dice medusa che bacia lei che bacia me ci sta e sì siamo lì assolutamente e comunque passiamo oltre il capitolo telenovela se no non la finiamo più vabbè posto che non ha che molto altro da dire mi sto guardando adesso e si vede che sono stanche cioè i capelli spaventa passere tra l'altro sempre con questo coso caldo che si vede anche da lì anzi si vede meno la ma è piena di peli di felino ma così è adesso qui sul letto ci sono i miei soliti tre felini insieme il papà la figlia e il nipote mi sono resa conto che ormai hanno 14 anni 12 e 10 e oggi vi faccio vedere una fotino qua mi è riparsa una buona funzione di facebook che ogni tanto ti tira fuori i ricordi di dieci anni fa questa era una foto di più di dieci anni fa questo era il mio micio zarra che adesso è molto diverso e questa era la gatta che adesso non c'è più di mia madre rei in realtà era la gatta mia era una gatta modinese era andata a prenderla da mio zio e poi però voleva più bene mia madre e voleva più bene mia madre semplicemente perché mia madre si alzava ogni mattina dalla da mangiare quindi lei poi è rimasta qui in questa casa a milano per con mia madre tutto il tempo e lei in realtà era quasi coetanea di di zar medusa mi chiede se ho continuato i diari della speziale ho visto tutto l'anima è veramente bello secondo me non ho visto tutto l'anima ma sì ho continuato i diari della speziale ha comprato il manga no io devo parlarne non cosa parte c'è una scena che mi ha fatto urlare dalle risate nell'ultimo volume il 12 è che per chi non lo sapesse è una storia la detective conan con una ragazza che è una sorta di medico nella in una cina antica alternativa che sta in una corte piena di intrighi tra le varie mogli dell'imperatore che si fanno agguati bla 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 e lei ci sono omicidi intorno a lei o tentati omicidi eccetera lei sa tutto di veleni eccetera e la corte è gestita abbastanza da un eunuco perché solo gli eunucchi possono stare e questo è uno l'eunuco più bello sembra avere per lei un debole e io ero lì che all'inizio pensavo quindi ci sarà una storia d'amore con un eunuco e nel vabbè non voglio fare spoiler ma capite che si scoprirà qualcosa nel volume 12 risa come non so che una delle mie domeniche fa una delle mie domenica gatti ti riferisce dice chiaretta fa tre anni mi sembra incredibile come si è volato il tempo decisamente medusa dice dico solo rana è il capirei si esatto capito benissimo chi alla fine ho comprato il manga non ho resistito io vorrei leggere le light novel ma non ho capito se ci sono mi basterebbe anche solo in inglese solo che le devo trovare state parlando di qualcos'altro dallas dynasty jack finnegan non conosco dainasi mai visto dallas tutto quello che so di dynasty e viene dalla tata da quell'unica scena in cui francesca interpretava a alexis a di dynasty credore di dallas io voglio prendere un persiano dicevi virgola quelli col nasino schiacciato è però poi un problema di salute attenzione l'idea l'indice mi ha ricordato devo recuperare spy per family su netflix mia madre lo stava guardando spy per family su netflix ho comprato alcuni volumi del manga ma non sono andata molto avanti con quello invece mentre invece il diario della speziale mi piace un pochettino di più sir seref diceva era beautiful la risurrezione di taylor sì ormai lì la gente è resuscita gente morta secoli fa ci sono serie che dove dovrebbero davvero far risuscitare i personaggi tipo gris anatomi dovrebbero suscitare un poiché di gente ma ovviamente non lo faranno seref mi chiede se mi è piaciuto il film di cosmos intendi sailor moon cosmos ho fatto un intero video dedicato a quel film l'ho commentato scena per scena praticamente sì e no non così tanto quindi non d'altronde il progetto crystal non è e la storia del manga non è mai stata la mia preferita però qualcosa di buona hanno fatto comincio ad avere sonno nonostante il mio piccolo teca fenico perché alla fine non l'ho bevuto tutto e ho ecco non ho asciugato neanche per un istante questo questo lip stain alla fine ti lascia un po di colore così però non lo so l'impressione che mi secchi un po le labbra ma forse un impressione lo so seref mi chiede se preferisco la serie storica mi conosci poco vero come fan di sailor moon e io sono una grandissima fan della serie storica se per capire di più guarda i miei video perché ho speso decine di ore forse centinaia di ore a parlare di sailor moon di qual è la differenza cristina mi chiede un manga che consiglieresti due in questo momento romantici commedie romantiche anzi uno non è un manga è un mangua ve ne ho parlato l'altra volta segretaria kim cosa c'è che non va con la segretaria kim molto carino sembra un po il film con sandra bullo che io grant ovvero due settimane tu x notice quello della segretaria che si licenziava col capo sì io cioè amministratore delegato deficiente ma troppo carino e poi vi consiglio anche quest'altro manga che ho comprato di recente ma non mi ricordo della autrice anashin aspettate lo lo amo tantissimo quel manga era destino che ti incontrassi sono usciti solo tre volumi ma volendo già lì si capisce tanto cioè si sono già messi insieme i personaggi lo adoro perché adoro lei adoro lui non ci sono drammi inutili è una storia tranquilla matura e i personaggi sono solo ventenni ma non sono non ci sono triangoli inutili anzi c'è una sorta una specie di triangolo ma viene risolta in maniera matura da chi ci ha finito dentro merisana mi chiede se ho mai letto mars è lì e l'ho comprato nella doppia versione è bellissimo srf dice ti conosco poco davvero poi vedo il tuo video minuto per minuto allora sì la tua villain preferita no non saprei questo tipo di domanda è troppo complessa per me nel senso che io fatico mi piacciono più più personaggi lo lo adoro comunque srf medusa dice ma io adoro la tua mamma che si guarda gli anime la mia pregiudizio sui manga anime peccato non sa cosa si perda mia mamma che guarda gli anime no mia mamma non guarda gli anime no l'ho detto in un qualche momento mia nipote guarda gli anime o forse mi sono sbagliata virgola mi chiede se mi piacevano le canzoni di nana sì 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 erano la cosa migliore della serie anime di nana la cosa migliore anzi andavo avanti a guardare gli episodi ogni volta che ricominciava l'ho visto su in video di recente o qualche anno fa era per sentire la sigla finale e iniziale federico federico tu sfondi una porta aperta è il ti piace o conosci ram a mezzo ram a mezzo è la mia adolescenza dopo sailor moon è la storia che mi ha preso di più io andavo in fumetteria due volte al giorno per vedere sarà uscita il nuovo volume di ram a mezzo a oggi lo apprezzo lievemente di meno e preferisco la mu e mesoni coco però mi porta tantissimi ricordi è carino e il mio senso dell'umorismo è stato molto plasmato da ram a mezzo cristina dice ho capito qual è il film con la bullock tra l'altro c'è un falco a cappacuccioli anche lì se non mi confondo no no ti confondi quell'altro film invece è ricatto d'amore con sempre la bullock che si mette con un uomo più giovane che è il suo segretario e lì si chiama quello è ryan reynolds no no è un altro film con una bullock più giovane e hugh grant era un altro attore britannico allora ho capito male diceva medusa ma si riferiva alle di aileen seref dice la mia preferita villain e sailor galaxy ci sta sarà mi chiede se ho letto poi dickens per ora ho letto solo grandi speranze che alla fine non vi ho commentato non ho abbandonato l'idea di farlo ma dovrei dovrei non rileggerlo ma recuperare un attimo quello che ovviamente medusa dice che preferiva noi ascia è sì noi ascia io volevo disperatamente amarlo io ero innamorata di ranma mezzo intendo dell'opera io volevo amarlo disperatamente i noi ascia io ho iniziato a imparare l'inglese perché quando mi hanno dato il computer non era ancora uscito noi ascia qui in italia e c'erano solo le prime notizie dal giappone solo in siti che parlavano in inglese io per capire qual era la trama io ho imparato l'inglese col dizionario sapevo solo l'inglese scolastico molto brava scuola ma non ero capace di parlarlo come si deve in una sola estate ho imparato l'inglese per sapere che cosa sarebbe stato di noi ascia e proprio per questo noi ascia per me è stata una delusione perché quello che mi era immaginata sui noi ascia prima dai riassunti che leggevo era molto più bello di quello che poi ho letto quando ho letto noi ascia ho provato a dare ai noi ascia mille possibilità no non è scattata la scintilla mai merisana dice oggi ho visto un trailer di un live action di city hunter non ho visto il trailer ho visto delle immagini ne faccio almeno volentieri le di aline dice a me piaceva il manga il giocattolo dei bambini rossana era della generazione successiva la mia oggi vedevo un video youtube no tik tok di alcuni ragazzi che dicevano hai 35 anni eppure canti ancora rossana dai pinsaci un po tu e io pensavo io di anni ne ho 40 e si vede che bastano quei cinque anni di differenza perché rossana non sia il mio cartone perché ero già liceale e quelli erano bambini delle medie per me erano bimbi e allo stesso tempo è il motivo per cui in ujascia non è il mio cartone ma lo erano a mezzo perché di qualche anno prima a volte basta solo qualche annetto di differenze cambia tutto sarah sta leggendo di dickens non di dickens di fitzgerald al di qua del paradiso cristina mi chiede se rivedrei commenterei in rei art ho provato a un certo punto e ho avuto un'opinione bruttina di rei art non che lo ammassi tantissimo neanche da ragazzina l'avevo un po mollato ma non sapevo perché è fatto male caratterizzazioni buttate lì forse cioè come struttura è fatto male nei primi episodi già iniziano a parlare mega poteri eccetera in cielo al moon ci avevano messo per costruire la squadra 40 episodi in rei art 32 perché avevano fretta di far vedere i nuovi costumi l'armatura i poteri e si vedeva che era che facevano in fretta tini dice ma sempre più giovani simbro ma ho 40 anni rei art è disponibile su prime video prima stagione dice l'idealing io vedevo i cieli di scaflon su enti via ai tempi dell'università io avrei voluto innamorarmi dei cieli di scaflon ma poi non mi ricordo perché non l'ho mai iniziato a guardare forse perché lo davano la sera e alla sera era il momento in cui la tv era colonizzata dai miei genitori ne avevamo più di una a un certo punto abbiamo avuto anche tre tv in una casa piccolissima ma un'era in cucina un'era in salotto per mio padre l'altra l'avano messa nella nostra stanzetta per me mio fratello a un certo punto per guardare i cartoni e la guarda o la usavamo solo per quello no ma quando c'è stato i cieli di scaflon stavo già in un'altra casa e poi la televisione non la usavamo per giocare ai videogiochi ecco e no non guardavo più non ho mai avuto non ho mai passato la fase degli anime di mtv per quello per me una fase lontana e scaflon magari l'avrei amato allora ma non lo so l'ho saltato io ho visto un concerto con vanni dice medusa niente io della classe 94 attorno abbiamo fatto tutti una vera e propria baldoria è stato bellissimo cantavamo tutte le sigle mia sorella dice federica aveva tutte le bambole sailor poi le ha vendute però si è fatto un bel gruzzoletto non pensavo avessero così in mercato c'è un mercato enorme delle cose di sailor moon posso essere sincera susanna dice io per tantissimo tempo ero convita avessi 28 anni o giù di lì perché piangi mi stai dando un grande complimento infatti mi fa molto ridere quando arrivano persone soprattutto su tik tok non tanto qui forse perché qui parlo un po di più che mi vengono a parlare come se io fossi una bimba che non sa le cose io rido non ho bisogno di in qualche caso l'ho detto ma ho 40 anni cosa non venire a parlarmi come se fosse una ragazzina poi si tratta di donne magari più vecchie anche però sono una persona adulta fatta finita e con molta esperienza non mi puoi fregare così facilmente occhi di gatto bellissimo dice tini e occhi di gatto però è già di una generazione precedente alla mia di quei 23 anni di differenza che cambiano il a quell'età d'altronde basta poco per passare ad altri interessi occhi di gatto per me era una cosa da vecchia quando ero piccola io credevo avesse 25 dice virgola come ti invece no ma cosa 25 si vide qua ragazzi un pochettino però in effetti fino a due anni fa sembrava veramente più giovane qua luca dice cristina è d'obbligo a conoscere le sigle è immagino proprio per sailor moon c'erano i vecchi giocattoli degli anni 90 che io non ho mai avuto li avrei tanto voluti ma costavano un sacco e non me li hanno mai comprati prima che uscissero tutte tutto nuovo merchandise post 2014 valevano un sacco di soldi anche mille euro certe cose tini dice ti dico vent'anni ai vent'anni ti piace occhi di gatto qualcuno ti ha educato con questi anni me ha fatto bene lady elin dice io il carillon di sailor moon con la forma di stella che si apre suona dopo averlo caricato medusa dice beh oggettivamente dimostri meno di età mi chiedono la carta per le bevande addirittura quanti anni hai medusa a treviso dice merisana in una mostra sul giappone c'era una sezione sulla cultura anime manga ed erano esposti giocattoli dei robottoni oggi valgono tantissimi soldi chi li ha tenuti bene sì ma io era una bimba felice che se aveva un giocattolo lo apriva e ci giocava e lo rompeva se proprio non ho mai capito quelli che avevano il giocattolo e lo mettevano lì in esposizione mi sembra tristissima ma evidentemente non lo era così tanto perché adesso hanno un oggetto che vale un sacco di soldi quindi a ognuno il suo decisamente susanna mi diceva una pelle bellissima e soprattutto lo spirito curioso che sicuramente contribuisce a sembrare più giovane è la pelle è solo fortuna è solo fortuna o forse come leggevo una volta è che ho avuto per alcuni anni la pelle un po grassa che poi è bastato cambiare alimentazione per averla normale diciamo così non troppo secca non troppo grassa sempre l'ho sempre avuta uniforme mai avuto tanti problemi mai mai usato fondotinta anche perché mi dava fastidio è come se mi sentissi addosso una maschera mi veniva voglia di pugliesi io dice medusa ho 30 anni ma sempre più giovane allora anche tu avrai la mia fortuna al suo tempo vedrai che a 40 anni sembrerà che tu abbia 30 anni è la fortuna di noi che siamo abbiamo la baby face la faccia da bimbe tini dice quando vado ai bar mi prendono per una quindicenne poi ci sono quelli più piccoli di me che sembrano più grandi di me che fastidio ma guarda sempre così è sempre stato così ci sono 18 anni che sembrano 25 anni altri che sembrano 13 anni quindi è giusto ok ragazzi sto crollando dal sonno mi verrebbe voglia di prendere un gatto ma perché disturbarli si sarà in un altro momento mi avete detto che li avete visti non c'è l'altra gattina dove è finita ivi ivi malvagia dovrò prenderla ivi voi l'avete vista crescere in questo canale adesso è grande quanto gli altri ciotti è una roba incredibile e non fa che portare lucertole quelle povere lucertole ogni volta quando la becco viva al riporto al suo posto e lei per dispetto ne porta altre cristina dice sì beh se quei giochi continuano a tenerli nella credenza serve a poco averli con sé ne ricavano il piacere del vederli a ognuno il suo prendi una gallina dice virgola si scendo di sotto e prendo la gallina che tra l'altro mentre ve la mostro mi fa la deiezione addosso perché sono maledette sono capaci ragazzi vi ringrazio tantissimo di avermi dedicato il vostro tempo sono contenta di avervi accompagnato magari nelle faccende di casa se avete stirato con me non fino a quest'ora spero o magari in un secondo momento mi ascolterete grazie di commentarmi di chiacchierare insieme a me ci vediamo una prossima volta in questi giorni domani aspettatevi piccoli video con le news royal su harry e megan che ci sono sono risuscitati insomma dal loro silenzio susana diceva almeno ci siamo godute l'infanzia anche io scartavo giochi giocavo a smontarli fa niente soldi in meno ma tanti ben ricordi si infatti ci ho giocato con i giocatori buonanotte a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni buon weekend